Civil Week 2024, siamo a Magenta nella libreria di Tino, la memoria del mondo, insieme anche a Leila. Sono due volontari che per la Civil Week si sono messi di impegno e stanno lavorando insieme ad altre 14 associazioni, tra cui La Calla, grazie a un'idea che ha avuto Marco Latuada di La Calla, che abbiamo conosciuto per le strade di Magenta, per fare un'iniziativa davvero educativa. Tino, raccontaci un po' qual è il tuo impegno e il tuo ruolo in questa iniziativa e raccontaci anche un po' che cosa farete. Allora, il mio impegno in questa iniziativa in realtà è un impegno di affiancamento del progetto Punto di Marco e quindi abbiamo collaborato nel favorire la stampa, delle credenziali, dei volantini, a diffondere la notizia eccetera. Noi come attività, come mio figlio Luca, gestiamo questa libreria che è anche casa editrice e quindi siamo spesso coinvolti in iniziative che hanno anche finalità culturali. Un altro tema che ci ha spinto a collaborare è il renderci conto di come spesso il mondo delle associazioni stia un pochettino invecchiando, cioè non c'è un ricambio generazionale e quindi far conoscere ai ragazzi, ai giovani questa associazione potrebbe, speriamo, favorire anche l'ingresso di qualcuno di loro e quindi diventare parte attiva nella associazione. E questo appello al volontariato con la parola d'ordine, che è quella di meravigliatevi, è proprio quella di portare in giro i ragazzi per conoscere il volontariato di Magenta. Una delle volontarie che fa questa opera a favore del bene pubblico è Leila, con la tua associazione che è l'Accademia dei Pellegrini. Leila, chi te lo fa fare di fare la volontaria? Chi me lo fa fare? È il fatto di voler portare avanti comunque queste, far conoscere comunque queste associazioni, portarle avanti perché come diceva primattino, ci sono pochissime tra l'altro persone, giovani che vogliono partecipare, che ci portano. L'Accademia Pellegrini vuole semplicemente portare a conoscere quanto è bello ancora il poter camminare, camminare tranquillamente senza doversi far riprendere dalla foga, dalla corsa che al giorno d'oggi esiste purtroppo e dobbiamo un pochettino, stiamo cercando di un po' di frenare questa cosa. Questa frenesia, di frenare questa frenesia. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi e alle prossime. E alle prossime, anche perché è la vostra prima Civil Week questa? Sì, esattamente. Per voi quindi è la novità. Allora ci rivedremo, spero anche l'anno prossimo. Benissimo, grazie, grazie, grazie.